Via! Papà! Non vai a scivola! Come va? Ma funzionava prima! Guarda! Strano! Possiamo mettere... Acqua! E piscinetta in fondo! Cominciamo? Siiii! Aio, ragazzi, facciamo pravo! Aio, ragazzi! Guarda! Aio, ragazzi! Lo possiamo agganciare in alto! Che ha solo un buco! Prova? No, funziona lo stesso! Adesso, ragazzi, proviamo con celofan! Andiamo via! Ma celofan! Ma è andata da solo! Mettila bene, così! Stingiti! Allora, ragazzi, con celofan non è andata bene! Abbiamo preso il nostro vecchio modo! Borsa di un negozio! E' un negozio! E' un negozio! E' un negozio ancora? Si! Vai, cosa è questo? E' un negozio ancora! E' un negozio! Adesso, dai! Ahahahh! Pimpi cu Hoeto! Ahahahah! Acara così! Weuu! Via! Via! Encorro voglio! Via! 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 Ono due tre via! Via! Sono uscito un po' fuori! Matteo, già pronto? No! No! Ahahahah! Ahahah! Oh! 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 Nooo! Io volevo prendere, giuro! Questa volta è andata male! Ahahahah! Iscriviti sul mio canale, metti like e condividi questo video con i tuoi amici! Non dimenticare di guardare altri miei video! Ciao! Ciao!